Bella raga, io sono Chapp, come state? Ci tenevo a fare una breve introduzione al canale prima di passare direttamente al video In questo canale porterò tutto ciò che riguarda il fitness nella mia vita Quindi allenamento, dieta, integrazione, sgarri, tutte queste cose qui Ci tenevo anche soprattutto a ringraziarvi per i 50k su TikTok Arrivati in poco più di 6 mesi, una cosa incredibile E tutto ciò è davvero stimolante perché mi spinge veramente a creare altri video Impegnarmi a investire in quello che sto facendo Ed è veramente incredibile la potenza che ha questo social nel riuscire ad arrivare a un sacco di persone Detto questo, in breve vi lascio il video, vi ricordo di lasciare un mi piace Lasciare un follow su Instagram, qui su YouTube e soprattutto su TikTok Bella Ok ragazzi, sono le 4 del pomeriggio, mancano due ore all'allenamento Cominciamo a prepararci uno spuntino Semplicemente saranno carboidrati, proteine e grassi, un posto completo Andremo a fare yogurt greco, fiocchi d'avena, proteine in polvere e noci Dai, perdonatemi già subito il casino Questo è quello che mangio io prima di allenarmi Prima di tutto, latte quanto basta Ovvero abbastanza Per rendere tutto un po' più cremoso Facchi fiocchi di avena Che ne uso all'incirca sui 60-70-80 grammi Dopodiché un po' di miele Visto per dare un po' di panpe durante l'allenamento Quello che renderà stupendo questo vino, ovvero le proteine in polvere del biscotto Queste ragazzi sono spaziali Un po' di meno, lì circa 20 grammi Dopodiché lo yogurt greco Questo è quello che viene fuori Mentre una bella mescolata Vi assicuro che questo ragazzi è spaziale, è incredibile E quello che viene fuori è all'incirca questo Ok raga abbiamo finito lo spuntino Adesso prendiamo la creatina E dopo aspettiamo due ore e andiamo ad allenarci Ok raga sono le 6 all'incirca È ora di andare ad allenarsi Sto aspettando il mio amico Riccardo Che per oggi ci farà da videomaker Bella vecchio Mi recchi vecchio Allora raga oggi spalle Andiamo a fare un po' di lento avanti Pesante Pesante, ci sta Alzate la taria lì pesanti Alzate la taria il cavo Del togli posteriori e un po' di braccia misto così Facciamo curl, push down, roba così Ci sta, andiamo Allora raga, da ora raga lì pesanti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok raga, allenamento finito, giornata andata, ci vediamo al prossimo video. Lasciate un mi piace, un commento, iscrivetevi al canale, è bella, bella vecchio.